Un anno fa era già in vacanza una, l'altra invece si giocava la promozione in Lega, oggi Brescia e Pistoia si ritrovano di fronte nei playoff Scudetto Lombardi dopo aver veleggiato nelle zone alte della classifica per tutta la regular season. Si va, arriva della valle la finta di consegnato di Bilane che poi va ad attaccare nel pitturato Beide, semigancio per il nativo di Sebenico. Della valle a proposito di giocatori che da oltre l'arco fanno male, ancora Della valle. Qualche modo riesce Nicola Chele a trovare una bella giocata nelle pitturate, due punti con la palla appoggiata al tabellone, c'è il primo time out. Della rosa spinge, schiacciata a terra il pallone per Varnado, prova ad attaccare Bornella e ci riesce bene. Sembra schierata zona la difesa pistoiese, Achele ancora grande giocata e tiro in reversa per Nicola Chele, 10 secondi ancora per Pistoia, deve andare di là. Barnella, prova ad attaccare Saccaggi, ma nel pitturato, semigancio di Jason Barnella. Dall'altra parte alzata e inchiodata per Kenny Gabriel. Spettacola palla leonessa. Si ferma Cristo, non vuole palla a Barnella, si alza per il tiro da 3 per ammazzare il match. Jason Barnella e adesso è 41 al 19. Barnella, prova ad attaccare Widall, va fino in fondo, Barnella in sottomano per il più 23, Burr, canestro valido. 48 punti in attacco va bene, 28 anche in difesa, quindi se torneremo così nel secondo tempo riusciremo a vincere la partita. L'arrivo è blocco di Hawkins, della Valle pronto ad aiutare, non c'è cambio difensivo, Willis si alza per il tiro da 3, si parte con 5 a 0. Ogbeide, che trova tutto chiuso, non può far niente se non regalare palla a Brescia, dall'altra parte si ferma della Valle. Solo applausi. Che le va su Hawkins, pronto al raddoppio però. Poi Hawkins ha spazio, si alza per il tiro da 3 e allora Magro ferma nuovamente il match della Valle. Pronto il, l'aiuto di Achele, ma della Valle gli ruba il pallone, si alza per la tripla! Ed è la tripla numero 200 con la maglia di Brescia per Amedeo della Valle. Willis, 4 secondi per andare al tiro della Rosa, deve andarci da casa sua! De la Rosa, 2 su 2! Il lob per Varnardo, c'è Varnardo su di lui, Varnardo lo attacca, va fino in fondo, Varnardo appoggia il tabellone e segna. Il pallone per Willis, c'è Massimo in conclusione di lui, arriva Hawkins, si ferma, si arresta e tira da 3! Peyton, Terrell, Willis! 12 per lui! Guido alla che serve, Moore! Parità! Parità! 6 minuti e 7 secondi! Poi Milan sta per sciupare tutto, Criston recupera, va a tirare a tabellone, sbaglia però, Milan si fa perdonare con il tapin! Nella Valle, la finta nell'angolo per Barnella, tira a CJ Massimburga da 3! Pesantissimo canestro da 3 per CJ! Nella Valle sul blocco, fuori per Massimburga, ancora da 3, ancora! CJ! E se Brescia porta a casa il match? Vediamo se si accorce, sì, 7-9, 7-0, ma comunque non c'è più tempo, 3 secondi, stretta di mano tra Magro e Brienza, finisce 79-70! Sappiamo che sarà difficile, ci saranno elementi da vedere tra gara 1 e gara 2, ma dobbiamo continuare così con la fiducia di continuare a costruire insieme!